Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Ragusa e dall'arresto effettuato dai carabinieri di un 63enne. L'uomo infatti gestiva un minimarket all'interno del quale però spacciava anche stupefacenti. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Ragusa in collaborazione con il nucleocinofili di Nicolosi e con il NAS e il NIL di Ragusa nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga e di controllo agli esercizi pubblici hanno tratto in arresto un 63enne comisano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed elevato sanzioni per oltre 11.000 euro. L'uomo, titolare di un minimarket in località Punta Braccetto, oltre che alla normale attività di commercio parallelamente gestiva una fiorente attività di spaccio. Nella circostanza, gli operanti, mentre si avvicinavano all'esercizio pubblico in compagnia dei cinofili per effettuare dei normali controlli, hanno notato all'interno del locale il 63enne, il quale, alla loro vista, ha cominciato a comportarsi in maniera sospetta muovendosi in maniera concitata spostando oggetti e bottiglie di alcol nel verosimile tentativo di nascondere qualcosa. Entrati all'interno, il cane antidroga King è stato subito distratto da qualcosa, proprio nel punto dove poco prima il comisano aveva spostato degli alcolici, il cane ha segnalato la presenza di stupefacente. Infatti, occultati dietro uno scatolone pieno di bottiglie, sono stati rinvenuti due contenitori di vetro, il primo contenente circa 60 dosi di cocaina, il secondo altrettante dosi di hashish. Continuando il controllo, scaffale dopo scaffale, King ha rinvenuto ben 16 panetti di hashish e segnalato nella controsoffittatura del negozio una confezione di cocaina per un totale di ben 2 chili circa di hashish e 240 grammi circa di cocaina. Per la quantità di stupefacente rinvenuta, sottoposta poi a sequestro, l'uomo è stato tratto in arresto e ristretto presso il carcere di Ragusa, come disposto dall'autorità giudiziaria. Nel corso del medesimo controllo, inoltre, gli operatori del NAS hanno riscontrato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché la mancanza delle procedure di autocontrollo, combinando sanzioni amministrative per l'ammontare di 5 mila euro, oltre alla sospensione dell'attività. Analogamente, nel corso degli accertamenti, gli ispettori del NIL hanno riscontrato la presenza di un lavoratore straniero in nero, facendo scattare la chiusura immediata dell'attività commerciale e la sanzione pecuniaria di oltre 6 mila euro. Spaccio di sostanze stupefacenti anche a Barcellona Pozzo di Gotto, nella Messinese. Due pusher, beccati dalla Polizia di Stato a spacciare all'interno di un'abitazione, sono stati arrestati e poi condotti in carcere. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Personale del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinato dalla locale Procura della Repubblica, a conclusione di laboriose e articolate indagini, ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale, sezione GIP, che ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due persone ritenute responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Le indagini hanno avuto origine dall'ingente sequestro di hashish, circa 4 chili, operato ai danni di un terzo soggetto, anch'esso in stato di detenzione. L'esame di tutte le circostanze emerse ha portato gli inquirenti a porre in essere una complessa attività investigativa, anche mediante strumenti tecnici, e l'installazione di telecamere nei pressi dell'abitazione degli arrestati. L'attività investigativa e di osservazione ha immediatamente dato esiti positivi. È stato infatti scoperto un vero e proprio supermercato dello stupefacente. Le telecamere, autorizzate dalla Procura, hanno immortalato una continua attività di cessione di droga sia all'esterno che all'interno dell'abitazione da parte dei due arrestati per tutta la durata delle indagini. Nel dettaglio sono state registrate oltre 500 cessioni di stupefacenti in un arco temporale di soli due mesi. Molti degli acquirenti individuati dalle telecamere sono stati, immediatamente dopo, perquisiti e privati della droga poco prima acquistata. Gli esami di laboratorio hanno confermato che le sostanze cedute erano stupefacenti, nello specifico hashish e cocaina. Cambiamo argomento, ci spostiamo virtualmente a Caltanissetta, dove un uomo è stato invece tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato, poiché accusato di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minorenni. Il servizio. La squadra mobile nel corso delle indagini preliminari ha eseguito una misura cautelare personale emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta dal giudice per le indagini preliminari. All'indagato è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, in quanto è gravemente indiziato di aver commesso i reati di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minori. A fine giugno scorso la squadra mobile ha avviato mirate indagini a seguito di più fatti denunciati da alcune ragazze minori di 14 anni. Le persone informate sui fatti, che non si conoscevano tra loro, in relazione all'autore hanno dichiarato tutte di aver assistito a delle condotte quasi identiche, pertanto gli investigatori sospettavano potesse trattarsi di un'unica persona. L'attuale indagato, secondo le dichiarazioni rese dalle minori ascoltate dalla sezione specializzata in reati contro la persona, avrebbe compiuto atti osceni in luogo pubblico, in particolar modo in una zona frequentata da giovanissimi. L'arrestato è altresì indiziato di aver tentato di approcciare una ragazza appena maggiorenne alla quale avrebbe mostrato dei video pornografici dal suo telefono e poi l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime, condotta ad attribuirsi ovviamente al reato di violenza sessuale. Tutte le persone ascoltate dagli investigatori della squadra mobile hanno riconosciuto l'indagato come il presunto autore delle condotte contestate. La Procura della Repubblica di Caltanissetta, valutati i gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla Polizia di Stato, ha richiesto e ottenuto dal GIP l'applicazione degli arresti domiciliari con l'applicazione dell'abbraccialetto elettronico. La squadra mobile, non appena ricevuto l'ordine di cattura, ha immediatamente eseguito la misura cautelare mettendo il presunto autore dei reati a disposizione dell'autorità giudiziaria per le prossime fasi previste dalle norme. Torniamo a parlare di spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso la notizia arriva da Palagonia, nel Catanese, dove i carabinieri hanno invece beccato una coppia di fidanzati, entrambi spacciatori, entrambi ovviamente finiti in manente il servizio. I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto una coppia di fidanzati, lui 23enne, lei 40enne, entrambi di Palagonia e responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività info-investigativa svolta dai militari dell'arma, con particolare riferimento al contrasto dello spaccio di droga. Aveva spinto questi ultimi a concentrarsi sulla coppia, che era nota ai ben informati, per condurre una fiorente attività illecita proprio tra le mura domestiche. I carabinieri hanno quindi preliminarmente svolto un'attività di riscontro della notizia, verificando un insolito via vai di giovani che si soffermavano all'interno dell'abitazione segnalata solo per pochi minuti. Alcuni militari, in abiti civili, allo scopo di eludere il controllo di alcune micro-telecamere occultate in vasi sul balcone, hanno bussato alla porta e, dopo aver avuto accesso all'immobile, hanno colto di sorpresa i due protagonisti della vicenda in compagnia di un acquirente. Proprio sul tavolo della cucina, infatti, erano piazzati in bella mostra alcuni involucri di carta argentata contenenti poco più di 2 grammi di cocaina, nonché l'immancabile bilancino di precisione e un ulteriore analogo involucro con 6 grammi di marijuana. La successiva ricerca all'interno dell'appartamento ha poi consentito ai carabinieri di rinvenire in un pensile della cucina altri quantitativi di cocaina per circa 12 grammi nascosti tra il riso all'interno di barattoli per salvaguardare la droga dall'umidità. E ancora, un involucro con 24 grammi di marijuana, il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi e soprattutto un pizzino con annotazione relativa alla compravendita della droga. In un'ulteriore stanza era installato il sistema di videosorveglianza al quale erano collegate le telecamere con vista sulla strada per tutelarsi da sgradite visite delle forze dell'ordine, mentre sintomatico del fiorente commercio di droga condotto dai due è stato, oltre al rintraccio del compratore colto sul fatto, il successivo avvento di altri 4 acquirenti di droga che invece della dose desiderata hanno avuto l'inaspettata sorpresa di trovare i carabinieri. I due sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi i domiciliari. I controlli effettuati invece dalla polizia a Catania hanno portato, tra le altre cose, all'arresto di un soggetto per spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, personale del commissariato Onesima ha effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel territorio di competenza. Nel corso di un servizio predisposto in zona San Giovanni Galermo è stato tratto in arresto un uomo gravato da vari pregiudizi di polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato, avendo il fondato sospetto che all'interno dell'abitazione in uso all'uomo potesse trovarsi della droga, hanno proceduto a effettuare una perquisizione domiciliare e mentre due agenti citofonavano al campanello, altri due si posizionavano nel retro dell'immobile in modo da avere la visione completa del perimetro dello stabile. In tale frangente hanno notato un uomo, poi identificato nell'arrestato, lanciare una calza di colore nero prontamente recuperata contenente un involucro di cellophane con dentro cocaina e marijuana insieme a due bilancini digitali di precisione. Alla luce dei fatti esposti, gli agenti hanno perquisito l'interno dell'immobile rinvenendo tre batterie di fuochi artificiali per i quali è prevista la denuncia all'autorità per la detenzione mai effettuata dal proprietario. L'arrestato, pertanto, è stato anche denunciato. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, l'uomo è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre tre persone sono state indagate in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica nel corso di alcuni servizi svolti in zona via Capopassero effettuati con l'ausilio di personale dell'Enel che ha accertato la manomissione dei contatori da parte dei denunciati. Altri due soggetti sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Infine, unitamente a personale del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, è stata effettuata un'intensa attività di controllo del territorio durante la quale sono stati effettuati accertamenti a carico di numerosi veicoli e persone con la contestazione e conseguenziale sanzione di diverse violazioni al codice della strada. La regione siciliana ha messo a punto un piano di investimento per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana. Si parla di bandi per oltre 267 milioni. Un investimento da 267,5 milioni di euro destinato a favorire l'insediamento di nuovi agricoltori e di giovani a migliorare la viabilità rurale, ad agevolare la diversificazione aziendale e attuare le strategie per lo sviluppo locale. I cinque bandi, pubblicati sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura, nell'ambito del piano strategico della politica agricola comune 2023-2027, mettono in campo un piano di investimento di importanza strategica per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana, secondo le direttrici individuate dall'assessore regionale Luca Sanmartino. Si tratta di un grande piano di investimenti, ha dichiarato l'assessore Sanmartino, specificamente indirizzato ai giovani siciliani che finalmente dà loro strumenti e risorse per investire e diventare protagonisti nell'agricoltura, un settore che oggi sta vivendo una profonda trasformazione tanto nei processi produttivi che in quelli organizzativi, sicuramente influenzati dalle opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico e da una maggiore consapevolezza del valore della sostenibilità. In questo contesto, ha aggiunto l'assessore, già oggi molti giovani imprenditori agricoli stanno fornendo il loro contributo alla crescita del valore delle produzioni siciliane con il loro patrimonio di idee, di competenze, di capacità innovativa, consentendo alla nostra agricoltura, forte di una qualità media che non ha uguali, di essere sempre più competitiva nei mercati nazionali e internazionali. Con queste misure, ha concluso Sanmartino, contiamo di portarne molti altri a investire in un settore che sempre di più si sta affermando come modello di riferimento per lo sviluppo dell'economia siciliana. Andando nel dettaglio dei bandi, 78 milioni sono previsti per l'insediamento dei giovani agricoltori dai 18 ai 40 anni, con la finalità di offrire opportunità e strumenti per attrarli nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili, sia in termini ambientali, sia in termini economici e sociali, con particolare riguardo all'acquisizione di conoscenze. 20 milioni per i nuovi agricoltori da 41 a 60 anni, 28 milioni per la diversificazione rurale, per incentivare gli investimenti nell'agriturismo, nell'agricoltura sociale, nelle attività educative e didattiche e nella trasformazione dei prodotti agricoli. 65 milioni di euro per la viabilità rurale e per concludere, 76,5 milioni di euro per l'attuazione di strategie di sviluppo locale, con l'obiettivo di favorire l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali, consentendo la nascita di nuove imprese e la diversificazione delle attività con particolare attenzione al ruolo delle donne e dei giovani, di innalzare la qualità della vita, di promuovere il patrimonio forestale, storico, naturale, architettonico, puntando su un'offerta turistica integrata. Possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi.